Siamo negli studi di TM News con Danilo Toninelli, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del Movimento 5 Stelle per parlare di legge elettorale dopo la sentenza della Corte Costituzionale che di fatto ha archiviato il Porcellum. La novità è che la legge elettorale potrebbe tornare all'esame della Camera. Perché? Grazie all'insistenza del Movimento 5 Stelle della scorsa settimana, in particolare della giornata di giovedì, siamo riusciti a convocare una conferenza di capigruppo e a chiedere l'incardinamento della proposta di legge elettorale anche alla Camera. Grazie a questa attività oggi siamo riusciti a ottenere anche la calendarizzazione all'interno dei lavori della Commissione Affari Costituzionali della Camera della legge elettorale. Ciò significa che ora la palla passa ai presidenti di Camera e Senato che dovranno coordinarsi e decidere a quale Camera dare la prima lettura. Quello che diciamo è uno slogan, ovvero sia è grasso, molla l'osso. Il Senato deve prendere atto e deve prendere atto chi ha fallito. Voi avete una proposta in campo, voi avete presentato una proposta, un modello svizzero-spagnolo. In sintesi di che si tratta? Prima della proposta voglio dire che politicamente il Movimento 5 Stelle chiede il voto immediato col mattarellume. Lo fa perché dopo la sentenza della Corte Costituzionale questo Parlamento è illegittimo, di conseguenza non può certamente votare un'altra legge elettorale, ma lo farà il prossimo Parlamento nella prossima legislatura, quindi chiediamo di andare a voto col mattarellum, che è la legge elettorale ultima votata da un Parlamento legittimo. Allora, veniamo all'attualità politica. Il neosegretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, sembra intenzionato ad aprire un confronto anche con le opposizioni. Voi siete pronti a incontrarlo? Noi, come sempre abbiamo detto, non siamo chiusi a nessun confronto. Lo vogliamo fare però con apertura e trasparenza. Quello che sta avvenendo al Senato è la costituzione di un comitato ristretto, segreto, che non dà pubblicità ai lavori, che dovrebbe lui solo, all'insaputa del Parlamento e all'insaputa dei cittadini, fare una legge elettorale. Noi diciamo che vengano alla Camera, che nella trasparenza e nella pubblicità totale dei lavori, dicono che cosa vogliono fare. Alla Camera il PD ha i numeri, di conseguenza avrà la responsabilità di iniziare i lavori su una legge elettorale. Noi l'abbiamo depositata, una legge elettorale, ma siccome siamo coerenti non vogliamo lavorarla, nonostante riteniamo che sia un'ottima proposta di legge che si basa sul modello spagnolo e sul modello svizzero. Ci arriviamo un secondo solo. In caso questi incontri, questi ragionamenti con il PD e con Renzi, li farete come gruppi parlamentari o saranno i vostri leader? Sarà Beppe Grillo a incontrare Renzi? È possibile? Questa è una risposta che non posso dare. Io ritengo più plausibile che siano i gruppi parlamentari e in particolare i membri delle commissioni che andranno a trattare la legge elettorale a fare questi incontri. Riteniamo che sia impossibile che si possa arrivare ad un incontro perché le loro intenzioni, soprattutto di Renzi, è quello di fare una legge elettorale che modifica la forma di governo senza modificare la Costituzione, ovvero sia la cosiddetta legge dei sindaci, che è un premierato di fatto. Ciò significa ancora più governo e meno Parlamento. Noi diciamo più Parlamento e meno governo. Veniamo alla vostra proposta. Svizzero-spagnolo cosa vuol dire? Allora, noi innanzitutto siamo partiti da alcuni principi. I principi sono la governabilità dal basso dei cittadini, il principio di rappresentatività dei cittadini, la centralità del Parlamento e la scelta. Ciò significa modello spagnolo, circoscrizioni piccole, province. C'è una preferenza sul modello svizzero in cui i cittadini non possono solo preferire, ma anche cancellare. Ciò significa ridare ai cittadini un legame diretto con la politica incidendo sulla classe politica che si creerà e su un Parlamento che sarà centrale, importante e non svuotato ed inutile come oggi. Ecco, spieghiamo meglio questa cosa del cancellare. Cioè i cittadini potrebbero, gli elettori potrebbero votare contro un candidato particolarmente sgradito, ma in Italia cosa impedirebbe dei gruppi di pressione, anche criminali, di esercitare un'influenza così sul voto? Allora, laddove ci sono le preferenze, lo dimostrano anche i referendum del 1993, ci sono dei rischi ovviamente di voto manipolato, di voto di scambio. Con la possibilità di cancellazione noi pensiamo che accanto ad un voto manipolato ci sia un voto di un cittadino consapevole ed onesto che possa cancellare quello che è un impresentabile all'interno della lista che ha votato, perché prima si vota la lista e è solo all'interno della lista che si può cancellare. Ma la nostra proposta crea un effetto importantissimo, ovvero sia che obbligherà, vietando le coalizioni, obbliga una fusione di liste e di conseguenza una qualità dei candidati. Ciò significa che gli impresentabili non ce ne saranno più. Grazie.